Negli ultimi anni la medicina va sempre di più verso concetti come indolore e poco invasivo. Questo è possibile grazie alle tecnologie 3D che soprattutto nel campo odontoiatrico diventano sempre più utilizzate. Siamo in compagnia del dottor Palmas, odontoiatra, a cui chiedo che cosa sono in realtà le tecnologie 3D? Le tecnologie 3D sono degli strumenti di cui oggi ci possiamo avvalere per eseguire un intervento in maniera virtuale prima ancora dell'esecuzione reale, fisica. Questo ci consente di abbattere fino di 10 volte i tempi di esecuzione. Meno i tessuti aperti durante la chirurgia vengono appunto tenuti aperti e migliore è la guarigione nel tempo dei tessuti. Quello che noi andiamo a fare è pianificare l'intervento prima ancora di eseguirlo. Grazie alle tecnologie 3D quanto si sono abbassati i costi della produzione dei denti? Un tempo i libri venivano scritti a mano, poi è stata inventata la stampa e il costo dei libri è sceso drasticamente. Stessa cosa come per esempio questi denti sono stati stampati in 3 ore da un robot e dopo 5 ore il paziente aveva già in bocca piazzati dei denti. Il costo di questo disco è circa 170 euro. Potete immaginare in era pre-digitale quando invece dovevano essere fatti tutti a mano da un odonto tecnico. Avevamo dei costi ben superiori. La precisione, in termini di precisione intendo? Se questi si rompono io con un click dopo 3 ore li posso ristampare esattamente identici a quelli precedenti. Oppure posso stamparli in migliaia di materiali diversi. Se vedo che un materiale non funziona come dovrebbe posso andare e fare un upgrade con le stesse forme a un materiale diverso. Grazie a tutti.